Sono ballerini di classe A1, quindi il massimo che c'è, il top che c'è Luca e Vanessa, Elia ed Afra, Alberto e Micol e Federico e Alice del gruppo Sirene Danzanti di Rimini dei Maestri Mirko e Sandra Ermetti Si balla la polca? Cinque parti di Diabolica! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Signori, le Sirene Danzanti dei Maestri Mirko e Sandra Ermetti Spettacolari come sempre, come ogni volta Grazie ragazzi! Grazie davvero! Prendetevi questo grande applauso dell'arena del folk Sirene Danzanti dei Maestri Mirko e Sandra Ermetti di Rimini Che spettacolo questi ragazzi tizio! Io quando ballerò mai così? Mai!